avevo deciso di restituire il calice comunque ma non mi aspettavo che la pista mi avrebbe condotto qui la villa dei vasconsellos era come sempre pittoresca il cielo ancora sereno e lopes stava ancora annaffiando quella dannata erba iniziavo a sospettare che fosse chirurgicamente attaccato a quel tubo di gomma salve lopes come te la passi signor stobart che piacere vederti stai bene bene grazie la contessa è in casa ti sta aspettando te mostro la strada non importa la conosco signor stobart sento che ti devo delle scuse no non devi scusarti sono stato un po maleducato durante il nostro primo incontro lopes lascia perdere mi sono presentato come un venditore di olio di serpente non mi sarei fidato se fossi stato in te non capisci il ritrovamento del calice ha dato nuove prospettive di vita alla contessa è meraviglioso lei sorride lei ride la gente dice che stia prendendo del protac signor stobart Che piacere. La preco si sieda. Salve Contessa, il piacere è tutto mio. Le ho riportato il suo calice. Accidenti, lo ha fatto pulire. Ho incontrato un prete affabile in Borghese. Ha risolto il mistero dei Templari? No, non ancora. Non so nemmeno che cosa sto cercando. Ci sono molte storie che dicono che i cavalieri abbiano nascosto immense ricchezze. Quello che so è che non voglio che lo trovino dei criminali. È molto bello essere giovani e vivere secondo dei soliti valori morali. Ho scoperto qualcosa di incredibile con quel calice. A Parigi ho trovato una chiesa dove hanno riconosciuto lo stemma. Ho trovato la tomba di Don Carlos de Vasconcellos. È sicuro? Non può essersi sbagliato? Lo stemma sul calice corrisponde a quello sulla tomba. Incredibile. Non so come ringraziarla. Devo andare là il più presto possibile. Sì, sarei felice di mostrarle la città. Ho scoperto qualcos'altro inciso sulla tomba di Don Carlos. Riferimenti biblici. Quali sono i riferimenti, signor Stobar? Salmi 32, 7, Corinzi. Non sono così brava da riconoscere i capitoli e i versi della Bibbia. Intendo... Quali sono i passi citati? Ho dimenticato di chiederlo al prete. Faccio un giro intorno, se non le dispiace. Faccia come se fosse a casa sua. Io rimarrò qui. Faccio un giro intorno, se non le dispiace. Faccio un giro intorno, se non le dispiace. Faccio un giro intorno, se non le dispiace. Grazie a tutti. Salve, le dispiace se mi siedo. Se metta pure a suo agio. Questa è la Bibbia proveniente dal mausoleo. Molto bene. Iniziamo. Il primo riferimento? Salmi 32,7 Tu sei il mio nascondiglio. Proteggimi dal male. Circondami con canti di liberazione. Il mio nascondiglio. Non si faccia prendere dall'entusiasmo. Questo potrebbe solamente portarci al luogo in cui abbiamo trovato il calice. Ha ragione, naturalmente. E adesso? Ok. Giovanni 4,11 Giovanni 4,11 Eccolo! Il pozzo è profondo. Il prossimo. Veloce! Ok, ok. Corinzi 4,5 Eccolo. Porteremo alla luce le cosse nascoste. Nient'altro? Ancora uno. Salmi di nuovo. 22,21 Salvami dalla bocca del leone per te che mi hai sentito dalle corna degli unicorni. L'ultima non è molto chiara. Leoni, unicorni, cosa significa? Non riesco a capire. I punti salienti sembrano essere un nascondiglio e un pozzo profondo. Il mausoleo non è certamente un pozzo, signor Stobart. C'è un pozzo nei sotterranei? Non lo so. Credo che ce ne dovrebbe essere stato uno una volta. Lopez è la persona miglior per chiedere qualsiasi cosa sulla tenuta. Darò solamente un altro occhiato in giro. Molto bene. Ciao, Lopez. Hai un minuto? Certamente, signor. Cosa posso fare per te? Qual è la storia dietro la scomparsa del calice? Si pensa che l'inquisizione se ne sia impossessata quando fece irruzione durante un periodo di assenza di Don Carlos. Naturalmente negarono l'accusa, così come negarono di aver sequestrato i bambini. E naturalmente, nessuno gli credette. Ma dicevano la verità. Il calice era stato nascosto e non lo avevano trovato. Non pensi che dicessero la verità anche a proposito dei bambini, vero? Madre de Dios! Non ci avevo pensato. Ma allora che gli successe? Non lo so. Se l'inquisizione non li aveva presi, allora chi lo fece? Devi parlarne con la contessa. Contaci. Così la contessa crede che la maledizione sia stata tolta? Non ne sarei così sicuro. La tua scoperta del calice era la prova che i templari non avevano mai abbandonato i Vasconseios. Conta molto per la contessa. Tu devi sapere praticamente tutto ciò che c'è da sapere su questo posto. Sì, ho trascorso qui tutta la mia vita al servizio dei Vasconseios. Sai se c'è un pozzo nei paraggi? Un pozzo? Sì, signor. Questa era una volta una fortezza. Come puoi sopravvivere a un assedio senza acqua? Grande! Allora dov'è? Come faccio a saperlo? Il pozzo venne coperto il secolo scorso. Era pericoloso. E non hai nessuna idea di dove si trovasse? Nessuna. Venne coperto ancora prima dei tempi di mio nonno. Devi avere una vaga idea di dove si trovi il pozzo. Doveva essere nel cortile della vecchia casa, per cui significa che si trova più o meno qui. Qui? Ok. Come facciamo a trovarlo? Ci deve essere un modo. Fammi pensare. Ancora nessuna idea? Non ancora, signor Stobart. Devo pensarci meglio. Ci vediamo più tardi, Lopez. Adios, signor Stobart. Che vediamo. LAN Appesa al soffitto c'era un'enorme candela ingiallita, sembrava molto vecchia e non era mai stata accesa. Grazie. Grazie. La candela aveva bruciato ardentemente ma solo per un paio di minuti, qualche tipo di composto speciale credo, una forma complessa scolpita espertamente nella pietra, pensai che fosse una specie di chiave. Grazie. Ciao Lopez, hai un minuto? Certamente signor, cosa posso fare per te? Ancora nessuna idea? Stiamo cercando una sorgente di acqua vero? Sì. Per generazioni i contadini spagnoli avevano un modo segreto para localizzar l'acqua, anche se era a molti metri dalla superficie. Oh, non stai parlando di una bacchetta da rabdomante, vero? Eh? Sai di cosa sto parlando? Ti procuri un bastone, vai in giro fino a quando il bastone si piega e inizi a scavare. Oh, ne hai sentito parlare? Credo che ne abbia sentito parlare la gran parte del pianeta. Ok, procuriamoci un bastone. Un momento, deve essere un bastone speciale, un ramo di nocciolo a forma d'ipsilon. C'è qualche nocciolo qui? Sì, qui. Questo è un nocciolo. Ci vediamo più tardi, Lopez. Adios, signor Stobart. Andai a cercare un bastone adatto. Non ci credo, non c'era un singolo ramo a forma d'ipsilon sul dannato albero. Sembrava proprio un nocciolo. Andai a cercare un bastone adatto. Aha! Ciao, Lopez. Hai un minuto? Certamente, signor. Cosa posso fare per te? Ho la mia bacchetta da rabdomante. E adesso? Semplice, signor. Afferra la bacchetta, para le punte dell'ipsilon. Tendile leggermente con i polsi, in modo da poter percepire il minimo movimento della punta della bacchetta. E cammina lentamente e con passo regolar sulla zona. Sembra piuttosto facile. Troveremo il pozzo in un attimo. Però in un minuto. signor stobert tu hai tu hai trovato qualcosa ecco questo è il posto che cela il segreto dei templari nascosto qui per centinaia di anni nascosto dalla vista dell'uomo fino adesso il mistero è rivelato è un barattolo di latta ho camminato in lungo e in largo con una bacchetta da rabdomante in mano per trovare un barattolo di latta contiene dell'acqua è quella che la bacchetta da rabdomante deve aver localizzato dovrei consultare un archeologo ma non credo che i templari abbiano lasciato quello veramente signor stobert l'erba venne posata molti molti anni fa questo potrebbe risalire alle guerre napoleoniche buttalo via e riproverò lopez gettò il barattolo sembrava che avesse fatto una lunga caduta il tonfo finale confermò quello che entrambi sospettavamo beh sarà una grossa sorpresa è stato qui per tutto questo tempo tutti quegli anni e nessuno l'ha trovato rimanemmo in soggezione per un momento meravigliati di tutti i segreti che ci circondavano sarei potuto cadere giù per il buco il pozzo era nascosto da decenni l'aria si era rinfrescata dopo il sole del giorno ma non fu quello che mi fece venire la pelle d'oca ho un brutto dico brutto presentimento tanto tempo fa nell'antichità c'era stata una frana quelle sono proprio grosse vorrei avere un casco una grossa testa di leone di roccia con la bocca aperta piena di denti per quanto ne sapevo nessuno l'aveva guardata per secoli poiché era rimasta lì ad aspettare nell'oscurità continuavano a venirmi in mente le parole del salmo salvami dalla bocca del leone una grossa testa di leone di roccia per quanto ne sapevo continuava salvo da lontano la testa del leone era imponente da vicino faceva paura ehi uno di quei denti è separato dagli altri sentì un rumore di rocce e capì che ero in pericolo signor stobar signor stobar sta bene signor stobar da lontano la testa del leone era imponente da vicino faceva paura ehi uno di quei denti è separato dagli altri sentì un rumore di rocce e capì che ero in pericolo ah molto divertente pazzi signor stobar signor stobar sta bene si lopet sto bene che susto me ha sdada mi ha fatto paura bravi templari nell'oscurità era difficile vedere se avessi avuto la torcia di liri sembra un muro di pietra a buchi avevo rischiato la vita inseguendo una falsa pista ecco nel mezzo della porta riuscivo a vedere una specie di cavità non era il vicolo cieco che sembrava la torcia di liri sembra la torcia di liri sembra apriti sesamo un'altra porta segreta prima di andarmene non avrà più bisogno di quella copia contessa l'ho trovato con i bambini probabilmente vorrà rimanere da sola per un po' sarò fuori in giardino con lopez